Io non parlo, veramente. Dobbiamo decidere un attimo una linea. Solo come si è trovata a Bari, potete chiedere come si mangia? Bari è fantastica, veramente. Abbiamo mangiato insieme al sindaco in maniera egregia. Presidente, dove sta a mangiare? Hai detto che hai mangiato malissimo. E' mio padre. La regia ci ha mangiato bene? Molto bene, molto. Pesce fantastico, il crudo, i ricci di mare. I musci. I musci, sì. I musci. Ma li mangiano i cotti, suppongo. Cotti me l'hanno portati. Eh, perché si vantano. Ecco. Dove va a ritrovare. Questo è il programma del Bari, mangiare, mangiare, mangiare. Molto giocatore ha avuto fortuna, grazie a questo fatto. Sono innamorato della nostra cucina della città. E tanti sono rimasti qui anche. E' un'eccellenza. E' un'eccellenza. E i giocatori come sono trovati in questa città? Sono arrivati ieri. Non hanno ancora mangiato. Non ho fatto. Per questo che non racconto nulla. Sono arrivati ieri. Primo allenamento è partito ieri pomeriggio. Però, Presidente... Ho anche pubblicato un video. Work in progress. Work in progress. No, no. Per il secondo allenamento. Speriamo che... Sì, ma se ci date il tempo di riuscire a mettere insieme anche il campo, perché stiamo lavorando su questo. Con De Grecis e tutti quanti. Come? Lo stagio San Nicola... Stanno andando avanti. C'è la società De Grecis, che è un'ottima società, sta lavorando giorno e notte per risolvere le problematiche del campo. De 1 a 10 quanto dà la sua squadra in attività. 10. Grazie. Grazie.